ben ritrovati amici di weekend dance da prezioso casa a castelvoltuno nella sede di salerno black days guardate il servizio rieccoci amici di weekend dance senza mascherina in quanto mi trovo in un ambiente molto grande sono da solo quindi rispetto anche le regole di distanziamento perché non c'è nessuno e allora prezioso casa a castelvoltuno ricordiamo anche la sedia salerno io porrò delle domande al presidente che in giro in un'altra area anche lui col distanziamento senza mascherino dove si può chiaramente senza mascherina si può fare allora chiederò naturalmente al presidente ghatan ambroska la consulenza online che in questo periodo di emergenza è ancora più rafforzata prego presidente si dino prezioso casa per essere sempre più vicini alle esigenze del nostro pubblico siamo pronti ed operativi per la consulenza online quindi attraverso la comodità di stare a casa ci colleghiamo direttamente con il pubblico finale attraverso uno schermo monitor che può essere un pc può essere un tablet può essere un telefonino progettiamo con i nostri consulenti direttamente a casa vostra quindi oggi siamo pronti e abbiamo aperto questa consulenza online per le necessità e per stare sempre più vicine ai nostri clienti finali caro presidente ambroska a questo punto la domanda nasce spontanea cosa bisogna fare o meglio come fare per prenotare gratuitamente dico gratuitamente una consulenza online la consulenza è totalmente gratuita questo è un servizio che voglio precisare perché importantissimo i nostri consulenti quasi tutti architetti design interne vi aspettano tutti i giorni per soddisfare le vostre esigenze quindi veniteci a visitare attraverso i nostri portali è facilissimo basta andare sul nostro sito prezioso casa punto it sul tastino prenota consulenza e vi porta un link basta semplicemente registrarsi e siamo subito operativi siamo naturalmente nella secondo lockdown il primo a marzo il secondo naturalmente a fine anno noi ci auguriamo che possiamo riaprire tutti quanto prima e chiaramente anche prezioso casa allora presidente che cosa bisogna aspettarsi dalla riapertura negli store prezioso casa in questo momento non siamo fermi anzi siamo super operativi abbiamo cambiato tante cose nei nostri spazi espositivi soprattutto con delle grandissime novità novità nel reparto camerette novità nella zona giorno del design e soprattutto nell'area divani a breve il nostro visual roberto vi mostrerà tutte le novità di prezioso casa e saluto il visual al merchandising roberto benvenuto un piacere vederti a debita distanza naturalmente per l'emergenza covid il presidente ci ha anticipato prima naturalmente le tante novità nello store e allora per le persone che ci stanno guardando da casa per i futuri sposi naturalmente tu sarai il cicerone e illustrerai gli amici tutte le novità va bene dino ci proviamo allora seguitemi mi volevo presentare il nuovo divano lezzi di calia il divano che ha vinto il premio del design alla fiera di berlino un divano particolare modulare e componibile un altro modello nuovo che vi voglio far vedere è il modello edo un divano dal design molto elegante che però allo stesso tempo è anche molto comodo in quanto ha lo schienale movibile e Grazie a tutti. Vi volevo far vedere anche delle novità nella zona giorno e zona notte, come per esempio le ante del cabine armadio tutto specchiato e vediamo che all'interno infatti ci sono delle soluzioni cabine armadio che possiamo andare a personalizzare come vogliamo. Focus importante anche da tener conto è l'abbinamento tra i complementi, come in questo caso questo tavolino, con il parato che vediamo lì sul letto. La comodità la vediamo non solo nell'ambiente divani ma anche nella zona notte, ad esempio ci sono delle soluzioni particolari in cui il letto è dotato di braccioli reclinabili. Un'altra comodità la ritroviamo nell'armadio, un armadio scorrivole che in questo caso è complanare in modo tale da avere un'unica linea sulle ante. Le tendenze le vediamo anche nella zona giorno, vediamo come per esempio questi laccati metallizzati gold sono bellissimi abbinati a delle schiene in marmo a calacatta e i pensili in vetro, così come con i tavolini. Caro Pino, nonostante il periodo storico non proprio felice, nonostante l'emergenza epidemiologica, crisi economica, le vostre iniziative sono sempre straordinarie. Come l'ultima, appunto i Black Days, grande successo e complimenti soprattutto per queste idee sempre innovative di prezioso casa. Guarda, io sono particolarmente entusiasta tra l'altro di questa nuova promozione che è tornata, l'avevamo già fatta lo scorso anno, ma questa volta rispetto allo scorso anno addirittura dura ben 10 giorni. Tutti i prodotti hanno il prezzo esclusivo riservato ai dipendenti, in più abbiamo ancora delle slot dell'ultima promo, la wedding, per cui per quelli più veloci a prendere un appuntamento, oltre alla scontistica privilegiata, riusciamo ad assicurare anche 9 promozioni cumulabili tra loro, come per esempio la promo cucina, che è quella che piace di più, con la quale si possono ricevere lavatrice e lavastoviglie acquistando una cucina del valore minimo di 5.000 euro e se non bastasse, aggiungendo un ambiente giorno e una notte, pure un'asciugatrice. Poi chiaramente sconti su divani, camerette e su qualsiasi altro ambiente. E chiaramente invitiamo tutti a recarsi qui a Castelvolturno, naturalmente precioso casa, per i Black Days. Castelvolturno e Salerno, la nostra... Volevo che lo dicessi tu, perciò ti ho lasciato la pausa. Io sono sempre molto attento, lo sai. Castelvolturno e Salerno, le due sedi, poi ci saranno altre sorprese per il 2021. Certo, prenotate, fatelo attraverso i nostri canali ufficiali, sia i social, ma anche e soprattutto sul nostro sito, dove c'è proprio un'area dedicata. E allora, buon Black Days a tutti!